Eccoci qui giunti in un nuovo canonico appuntamento mensile con quella che è la rubrica che ormai porto avanti da diverso tempo qui nel canale cioè la top and flop del mese che ci siamo lasciati alle spalle o che sta per finire a seconda di quando arriverà questo video nel canale cioè il mese di luglio come ho fatto anche nei mesi scorsi e oggi vi andrò ad elencare 5 film il primo sarà il film top in assoluto del mese di luglio quindi il film migliore che ho visto durante questo mese poi vi darò la migliore sorpresa cioè un film che comunque è stato in grado di rispondere in maniera positiva anche alle mie aspettative per quanto non possa essere considerato il top in assoluto poi esploreremo il versante oscuro con il film flop in assoluto quindi il film peggiore che ho visto durante il mese di luglio la peggiore delusione un film dal quale mi aspettavo qualcosa di più e che non è arrivato ed infine vi darò un mio consiglio personale tra tutte quelle che sono le visioni che appunto ho portato avanti durante il mese di luglio vi dico fin da subito che per quanto riguarda questo mese dato che non sono andato tantissime volte in sala purtroppo io in estate riduco drasticamente quelle che sono le mie capatine in sala al cinema prenderò in considerazione anche dei film che non sono usciti proprio di recente al cinema ma ci arriveremo strada facendo allora iniziamo innanzitutto con quello che è il film migliore in assoluto che ho visto durante il mese di luglio non ho grandi dubbi al riguardo il film è Hitman Killer per caso film di Richard Linklater con la presenza di Glenn Powell protagonista principale un film che tra l'altro ho anche recensito quindi trovate nel dettaglio la mia opinione qui nel canale un film del quale avevo sentito parlare benissimo chi aveva già avuto la possibilità di guardarlo in sala nei giorni precedenti a quando sono andato io ma in realtà credo che il film sia arrivato anche in anteprima da qualche parte è un film che quindi aveva già sorpreso molte persone molte delle quali tra l'altro persone delle quali mi fido ciecamente per quanto riguarda i gusti cinematografici ed infatti così è stato un film davvero straordinario una commedia americana per nulla banale una commedia anche particolarmente interessante stuzzicante per quelle che sono le tematiche che vengono affrontate una storia apparentemente poco originale perché abbiamo un professore di filosofia che viene reclutato dalla polizia locale per diventare un killer per finta un killer per caso appunto per cercare di smascherare i malviventi però in realtà il tutto viene raccontato con come dire una intelligenza con una capacità anche di approfondire come dicevo degli argomenti che paradossalmente non avrebbero nulla a che vedere con una commedia americana per intenderci l'io, il superio, l'ego quindi l'es, l'ego e il superio quindi davvero qualcosa di sorprendente un film delizioso che io vi consiglio caldamente di segnarvi qualora non lo abbiate ancora visto al cinema temo che sia stato già tolto dalla programmazione di tutte le sale d'Italia perché ormai la programmazione è monopolizzata sia da Inside Out sia da Deadpool e Wolverine quindi da questo punto di vista probabilmente dovremo attendere la distribuzione streaming o in un video ma segnatevelo se lo avete già visto fatemi sapere che ne pensate davvero un film delizioso, il film migliore che ho visto durante il mese di luglio prima di continuare però vi ricordo anche di iscrivervi al canale cosa che non ho detto fino ad ora attivate anche la campanella, supportate anche questo video smuovendo un po' l'algoritmo di YouTube con un vostro mi piace un gesto semplice ma per me importante un commento soprattutto su quelli che sono i film migliori e i film peggiori che avete visto durante il mese di luglio quindi vi leggerò qui tra i commenti ed infine condividete il video ovunque vogliate procediamo però con quello che è ancora il versante luminoso di questa rubrica perché vi vado appunto a citare quella che è stata la migliore sorpresa di questi giorni, di queste settimane e proprio in tal senso devo prendere in considerazione un film non uscito in sala perlomeno non di recente, non durante questo mese ma che ho recuperato tramite Prime Video perché non lo avevo visto al cinema ed è il più bel secolo della mia vita un film, una commedia con Valerio Lundini e con Sergio Castellitto protagonisti principali una coppia che sembrerebbe quanto più improbabile possibile una coppia rappresentata da due personaggi molto diversi anche nel modo di intendere la presenza scenica Valerio Lundini da una parte comico chiaramente ma presentatore che ormai si è affermato in maniera importante a livello anche televisivo italiano Sergio Castellitto non credo abbia bisogno di presentazioni ma è una coppia che funziona e funziona alla grande in un film davvero anche in questo caso delizioso non un capolavoro non è sicuramente il film migliore degli ultimi tempi ma mi ha sorpreso piacevolmente anche perché non ne avevo sentito parlare tantissimo nel corso degli scorsi mesi e delle scorse settimane mi è un po' passato in sordina anche per quanto riguarda la distribuzione cinematografica mi incuriosiva appunto la presenza soprattutto di Castellitto ma anche di Valerio Lundini e ho trovato un piccolo gioiellino che vi consiglio di recuperare viene raccontata la storia di un uomo centenario che viene accompagnato da un ragazzo appunto interpretato da Valerio Lundini verso una manifestazione che è legata ad una legge presente in Italia che impedisce ad una persona che viene adottata da una famiglia di conoscere quella che è la famiglia biologica mettiamola così i genitori biologici prima del centesimo anno di età questo è il tema del film non voglio approfondire più di tanto per non spoilerarvelo ma è una tematica tra l'altro anche particolarmente importante straordinariamente attuale il film riesce a raccontarla con intelligenza facendo anche divertire e dando vita anche a dei siparietti riusciti tra i due protagonisti principali quindi il più bel secolo della mia vita un film che mi ha sorpreso volevo segnalarvelo anche perché non credo che realizzerò una recensione a riguardo quindi era l'occasione giusta per potervene parlare appunto qui nel canale per quanto riguarda invece il versante oscuro The Dark Side of the Moon quindi la parte più nera di quello che è il mese di luglio che appunto ci siamo lasciati alle spalle ci stiamo lasciando alle spalle il flop in assoluto per me e lo so probabilmente andrò in disaccordo con molti di voi anche qui su YouTube in tanti lo hanno anche parzialmente apprezzato io non l'ho tollerato ed è Immaculate film horror con Sidney Sweeney protagonista principale ed è lei l'unica cosa che si salva in questo film la sua prova attoriale tutto sommato convincente perché lei bene o male se la cava nel personaggio della suora che decide di prendere i voti e che poi si ritrova nel bel mezzo di una vicenda dai tratti quasi fantasy fantascientifici soprattutto nella parte finale del film lei è l'unico elemento della pellicola che io riesco a salvare per quanto io non conosca nel dettaglio la carriera di Sidney Sweeney probabilmente questo è anche il primo film che vedo con lei protagonista ma nel complesso per me probabilmente non è il peggiore horror che io abbia visto negli ultimi tempi ma semplicemente perché negli ultimi tempi ne sono arrivate di monnezze di quelle davvero bibliche di proporzioni bibliche ma io non riesco a trovare nulla di interessante in questo film anche tutti quelli che sono gli aspetti positivi che diverse persone stanno mettendo in evidenza per me in realtà sono delle banalità perché io capisco che l'intento di base potesse anche essere caratterizzato da tutte le buone intenzioni del caso perché in qualche modo si vogliono toccare anche qui degli argomenti dei temi anche importanti nella nostra società legati al femminismo i diritti delle donne la possibilità di poter affermare la propria scelta la propria indipendenza la propria volontà di decidere anche in situazioni particolari come può essere appunto quella di una suora però non è che basta semplicemente fare riferimento a dei temi importanti per far sì che il film risulti essere interessante si è sempre detto che per esempio il classico esempio che si fa non è che un film sulla Shoah debba essere necessariamente considerato un grande film soltanto perché il tema è straordinariamente importante no può anche succedere che un film che parli della Shoah in realtà risulti essere un film inguardabile ma è il film essere inguardabile non l'argomento a non essere importante ecco in questo caso vengono sfiorati degli argomenti anche importanti ma per me il film è da quasi buttare via senza grandi esitazioni mi dispiace per Sidney Swini mi dispiace anche per chi l'ho apprezzato ma posso anche comprendere questo punto di vista io non riesco in nessun modo a salvarlo quindi film flop del mese di luglio senza particolari esitazioni Immaculate con Sidney Swini per quanto riguarda il film che mi ha un po' deluso in questo caso devo prendere in considerazione una pellicola che tra l'altro ho visto proprio di recente nei giorni scorsi al cinema è Twisters io nelle settimane scorse ho anche come dire rivisto il film degli anni 90 per andare un po' a rispolverare la memoria l'ho anche recensito trovate la recensione nel canale quello non è stato mai un film che è stato in grado di entusiasmarmi in maniera spropositata io l'ho come dire l'ho sempre portato dentro di me con una sorta di nostalgia legata soprattutto a quella che è l'epoca in cui il film uscì e cioè negli anni 90 non lo andai a vedere al cinema io ero ancora un bambinetto a quell'epoca l'ho recuperato soltanto qualche anno dopo quindi in qualche modo è un film intriso appunto di malinconia e di nostalgia per i tempi andati per quanto io comunque lo consideri un buon film un più che buon film il primo twister ecco questo secondo film è di una noia spaventosa io non capisco tra l'altro come negli ultimi tempi siano sempre di più i film che potenzialmente hanno alla base degli argomenti delle tematiche o comunque uno spunto narrativo che dovrebbe portare lo spettatore anche a rimanere coinvolto per lo meno da un punto di vista strettamente adrenalinico per quanto riguarda la spettacolarità anche della messa in scena basti pensare anche a The Fall Guy film sugli stuntman che è di una noia mortale ecco Twisters film sui tornado ma che in realtà poi riesce ad essere noioso dall'inizio alla fine io non ho trovato anche qui niente di particolarmente interessante anche lo stesso Glenn Powell che è un po' il come dire il film rouge di questo mese di luglio da un film eccezionale da una prova eccezionale come quella in Hitman passa ad una prova totalmente scialba in colore come quella appunto in Twisters quindi le due facce di una medaglia due facce opposte anche per lo stesso Glenn Powell un film che non mi ha lasciato niente è una pellicola che dimenticherò molto rapidamente ora non so se realizzerò una video recensione se già l'ho realizzato è già arrivata quindi in realtà in questo momento sto registrando questo video con un po' di anticipo però davvero un film che mi è passato addosso senza colpoferire senza lasciare niente mi dispiace perché in realtà le potenzialità perlomeno da un punto di vista tecnico c'erano ora a me gli effetti speciali di questo film non mi hanno convinto e mi hanno convinto molto di più quelli degli anni 90 quindi con tutti quelli che sono con quelle che sono le differenze anche riguardanti i mezzi a disposizione tra quelli di 30 anni fa e quelli di oggi eppure io preferisco quelli di 30 anni fa questo già deve in qualche modo dirla lunga su questo film purtroppo una piccola grande delusione ora non che io avessi chissà quali aspettative su twisters ma ne avevo sentito parlare in maniera anche come dire benevola ad alcune persone non mi ha lasciato niente non il peggiore film del mese ma una piccola grande delusione quindi volevo prenderla in considerazione ed infine vi vado a lasciare una mia personale chicca un mio personale consiglio andando a chiudere appunto quella che è la carrellata della top and flop come sempre per la chicca personale mi faccio faccio riferimento a tutte quelle che sono state le mie visioni durante il mese di luglio quindi non necessariamente le ultime uscite ma anche dei rewatch dei film che ho visto per la prima volta ma magari ad anni di distanza dalla loro uscita ed infatti è questo il caso della chicca di oggi che in realtà comprende tre film quindi è una trilogia quella che vi voglio segnalare della trilogia before mettiamola così di Richard Linklater quindi anche lui ritorna in maniera importante in questo video dopo Hitman killer per caso ecco voglio segnalarvi la trilogia before quindi prima dell'alba prima del tramonto prima di mezzanotte tre film che si sono susseguiti nel corso dei decenni perché il primo se non ricordo male è del 94 quindi ha già 30 anni dopo 10 anni sarebbe arrivato appunto prima del tramonto dopo altri 10 anni 9-10 anni è arrivato prima della mezzanotte quindi tre film che hanno tra l'altro protagonisti uguali perché sono sempre gli stessi protagonisti Julie Delpy se non ricordo male è il nome della protagonista femminile Ethan Hawke è invece il protagonista maschile Richard Linklater li segue durante anche quella che è la loro effettiva crescita nella realtà ed è un esperimento tra l'altro che lui avrebbe poi ripetuto anche in Boyhood altro film che vi consiglio però ecco questa trilogia io l'ho recuperata soltanto di recente colpevolmente devo anche dire perché ho fatto passare 30 anni dall'uscita del primo film 20 anni da quella del secondo e 10 anni da quella del terzo quindi me la sono presa leggermente comoda però meglio tardi che mai in questi giorni li ho recuperati tutti e tre e devo dire che per quanto io possa preferire per esempio il terzo capitolo rispetto agli altri due il secondo lo considero forse il più debole della trilogia però tutti e tre sono dei film che mi hanno incantato sono film da vedere chiaramente tutti e tre secondo me perché il progetto cinematografico prende forma andandoli a vedere l'uno dopo l'altro quindi in ordine rigorosamente cronologico anche per seguire l'evoluzione dei personaggi film davvero deliziosi tra l'altro scritti divinamente da un punto di vista anche dei dialoghi perché quello che mi ha colpito di questi film è che non è che succeda chissà che cosa da un punto di vista della trama abbiamo questi due personaggi che si rincorrono lungo i decenni non vi voglio svelare nulla per quanto riguarda appunto la loro esistenza con dei dialoghi che rappresentano poi la parte preponderante dei tre film in tutti e tre i film scritti davvero splendidamente sono dei film che dovrebbero essere presi come esempio proprio per come si dovrebbero scrivere i dialoghi in una pellicola quindi davvero tre film deliziosi ve li consiglio se non ricordo male io in realtà li ho in on video ma se non ricordo male li trovate anche tranquillamente nelle varie piattaforme di noleggio di acquisto digitale quindi non è neanche difficile poterli recuperare poterli reperire ve li consiglio tutti e tre e quindi questa è la chicca che volevo lasciarvi in chiusura di questo video fatemi sapere adesso voi che ne pensate di questi film fatemi sapere la vostra opinione sulle pellicole che vi ho elencato se vi trovate d'accordo in disaccordo con il sottoscritto fatemi sapere la vostra personale top and flop del mese di luglio quindi i film che avete amato i film che non avete amato oppure vostri consigli sparsi quindi scriveteli qui tra i commenti perché come sempre vi leggerò con molto piacere io vi ringrazio come sempre anche per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi vi ricordo di iscrivervi al canale davvero fondamentale che lo facciate vi ringrazio davvero se lo farete lasciate un mi piace commentate il video condividetelo così l'algoritmo di youtube si sveglia un poco e fa arrivare il video anche ad altre persone e poi vi aspetto anche su instagram su facebook e nel mio canale telegram trovate tutti i link qui sotto in descrizione noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti qui nel mio canale io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti